Nella prossima settimana, la sopopera Beautiful si prepara a regalare ai fan nuovi colpi di scena, a partire dall'atteso viaggio a Roma organizzato dalla Forrester Creations per promuovere la nuova collezione Hope for the Future. Ma dietro le quinte della moda, gli intrecci amorosi e i tradimenti saranno i veri protagonisti. Il viaggio a Roma nelle prossime puntate di Beautiful, è visto da alcuni come l'occasione perfetta per risolvere vecchie questioni sentimentali. Katie e Carter, in particolare, sperano che questa trasferta possa favorire una riconciliazione tra Ridge e Brooke, una delle coppie più tormentate della serie. Mentre loro sognano un lieto fine, non tutti sono pronti a vedere i due amati protagonisti tornare insieme per l'ennesima volte. In particolare, c'è qualcuno che sembra tramare nell'ombra. Dietro l'apparente armonia, Taylor continua a tramare per riavere Ridge tutto per sé. Sebbene lei e Brooke abbiano stretto un patto di amicizia e sembravano aver seppellito l'ascia di guerra, la Ace non ha mai smesso di provare sentimenti per il Forrester. Per questo, decide di spingere Deacon a dichiararsi a Brooke, nella speranza che un nuovo amore per lei le lasci campo libero per riconquistare lo stilista. Lo Sharp, dopo aver inizialmente esitato, accetta di seguire il piano sugdolo della psichiatra e invita la bionda a cena al ristorante Il Giardino. Beautiful, anticipazioni della settimana. Cosa succede nella sopopera da lunedì 21 a sabato 26 ottobre 2024. Durante la serata, l'ex Galeotto confessa i suoi sentimenti nella speranza di far breccia nel cuore di Brooke. Tuttavia, quest'ultima è chiara. Non c'è e non ci sarà mai un futuro tra loro. La donna, stupita dalla persistenza di Deacon, inizia a sospettare che ci sia qualcosa di più dietro quel gesto. Pressato dalle domande della Logan, lo Sharp ammette finalmente che è stata Taylor a convincerlo a fare questo tentativo, confessando il vero obiettivo della dottoressa, riprendersi Ridge. Sconvolta e sentendosi tradita dalla sua amica, Brooke decide di affrontare Taylor di persona. Nell'ufficio della Forrester Creations, mentre la Ace sta confessando i suoi sentimenti a Ridge, la Logan irrompe per un confronto diretto. Le accuse volano alte. La bionda accusa la Bruna di aver violato la loro amicizia e di aver sempre tramato per riprendersi il Forrester. La situazione degenera rapidamente e le due arrivano a scontrarsi fisicamente, con Ridge che interviene appena in tempo per separarle. Rimasto solo con Brooke, Ridge cerca di calmarla, ma la donna, ancora profondamente ferita, gli confessa di non aver mai smesso di amarlo. Lui, combattuto tra le sue due ex mogli, si trova ancora una volta al centro di una complessa situazione sentimentale. Mentre le tensioni tra le donne del Forrester raggiungono la pace, anche Hope, viene a conoscenza dello scontro tra sua madre e Taylor. Scopre da di con ogni cosa, compreso il losco segreto della Ace, ovvero il suo volersi riprendere l'ex marito.